Ciao leggine, ciao leggini! Benvenuti a una nuova puntata della rubrica dell'oracolo con il mio oracolo delle 14 leggi universali. Andiamo a vedere insieme che cosa succede nella settimana della Befana dal 6 al 12 gennaio 2020. Allora, abbiamo aperto la grande questo anno con una lettura bellissima e andiamo a vedere questa settimana. Se questo video ti piacerà regalaci un like, se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito e niente, andiamo a vedere. Allora, questa volta facciamo le tre parti della settimana, cambiamo, ok? E allora, scusate che qua fa caldo. Allora, nella prima parte della settimana, quindi lunedì, martedì e a cavallo di mercoledì, iniziamo con un po' di pessimismo. Ci sarà qualche situazione che la prenderete un po' dal lato storto, però il pessimismo è l'altro lato dell'ottimismo. Quindi sarà fondamentale cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, oppure cercare di vedere che almeno il bicchiere c'è, partiamo da lì, almeno non siete senza bicchiere. Quindi cerchiamo di essere più ottimiste. Lavoro sul chakra del cuore sarà fondamentale perché il pessimismo, come vedete nella carta, un po' è qua. Magari il pessimismo a volte dato dalla paura di soffrire di nuovo, di rimanerci male e quant'altro, ok? Quindi cercate questa settimana di dire, ok, può andare male, però può anche andare bene, ok? Cercate di coltivare l'ottimismo e lo potete fare anche attraverso, per esempio, una pietra. Se avete delle pietre rosa o verdi rosa, quindi il quarzo rosa, la malachite, la florite, che a volte ha entrambi i colori, o tutte le pietre che vanno sul verde o sul rosa, le potete mettere sul chakra del cuore, che è appunto il colore tendenzialmente verde, però molto spesso ha anche degli influssi rosa, oppure la rodocrosite, la rodonite, quelle pietre sul rosa, così, per aiutarvi. Quindi potete mettervi la sera, prima di indormentarvi, durante il giorno, se avete le collane, metterla che penzola sul lato del cuore, o se no, le potete mettere, se siete femmine, ovviamente se siete leggine, se siete leggine è un po' più difficile, immagino, nel reggiseno. Però attenti poi quando ve lo levate, che se ve lo dimenticate, la pietra cade, si può rompere, quindi cercate di coltivare l'ottimismo, quindi quando succederà qualcosa, se siete portati ad essere pessimisti, ricordatevi questa lettura e dire, no, quella è un'emozione, posso provarne un'altra, voglio provare ad essere più ottimista. Bravi, questo è quello che dobbiamo apprendere, la legge della conoscenza di questo momento, perché? Perché dovremmo apprendere qualcosa nella parte centrale della settimana, quindi mercoledì, metà mercoledì, giovedì e venerdì. Questa conoscenza è che probabilmente una conoscenza che se no ci sarebbe arrivata un po' più pessimista, invece dobbiamo riuscire a prenderla in modo neutro, quindi potrebbe essere che verremo a sapere di un'informazione, ricevere, potreste ricevere una risposta, un risultato, un qualcosa, o potreste decidere di fare un corso, magari perché no, perché no, anzi, c'è il corso di registri akashici, c'è il corso di registri akashici il weekend dopo, quindi volendo potrebbe essere quello, no? E che cosa ci porta questa nuova conoscenza? A sciogliere un vecchio rancore, fondamentale quindi cercare di apprendere che non serve il pessimismo, ma serve saperle le cose, perché solo così possiamo sciogliere un vecchio rancore, qualcosa che ormai non ci appartiene più, perché abbiamo fatto tanto cammino, quindi torna un rancore cristallizzato dentro di noi, che siamo pronti, perché abbiamo la legge della conoscenza, a lasciare andare. Ricordati che il rancore è un'emozione di acqua cristallizzata, quindi ghiaccio, che va sciolto, perché sennò rischia di farti del male, anche proprio di crearti delle patologie, quando hai proprio tipo, non so, la morsa allo stomaco, il mal di stomaco, il brucio ridistoso, insomma tutto quello che sta nella parte di questa zona qui. Quindi mi raccomando, questa settimana sarà fondamentale cercare di trasformare il pessimismo in ottimismo, così da arrivare a conoscere bene qualcosa e questa conoscenza, quindi potrebbe essere apprendere una tecnica eccetera, ci aiuterà a guarire vecchi rancori che non ci servono più. Se il video ti è piaciuto regalaci un like, se non sei ancora iscritto al canale YouTube delle leggi della magia fallo subito e grazie di avermi seguito fino a qua. Tanta luce!